Totti, Francesco, tu sei una persona intelligente, c'è bisogno che tu parli, ma parli per mettere un punto a questa storia e far capire per una volta che non stai facendo una cosa per te stesso, come si può sembrare, perché tutto quello che è stato fatto ad oggi a riguardo di questa storia è stata fatta pensando che tu abbia pensato solo a te e basta, e non alla Roma. Siccome tu sei il capitano di questa squadra e sei anche un futuro dirigente da quello che si dice e si spera, io almeno lo spero, mi piacerebbe che ci fosse veramente una zampata tua da capitano, da uomo della Roma, da tifoso della Roma e non da chi protegge in quel momento uno stato d'animo, che capisco perché nessuno di noi è pronto a un passaggio di quel genere, come smettere di essere protagonista principale in campo. Quindi voglio dire, io so che sei intelligente, so che siete persone in buona fede entrambi e che questo tam tam debba finire alla faccia di chi veramente vuole male e si approfitta di questo gioco tra poveracci.